Sabato Nalessi e Giovanni Mezzosi a colloquio con il vostro avvocato. Buonasera, avvocato. Siete venuti a fare una bella notizia? No, è perché giuro che siamo stani che sta accadendo. Sono andato sperando che noi stiamo a fare la libertà. Avvocato, perché non state facendo niente per noi? Ragazzi, sto cercando di fare il possibile. Ma come voi sapete, chi è che vi sta accusando è una persona che voi due conoscete molto bene. E solo se ritratta potreste avere una speranza. Noi si denim l'onore se m'ha fatta come si. Noi condannate senza libertà, chi parla senza rigorità. Si hanno accusato sa gente ma che fa libertà. Stavo a fare vicino a mamma, siete venuti a voi, voi già da sa. A certamente mi ha già dovuto andare a casa. Noi condannate senza libertà. 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 Enra la portanya. Con reverseà in piedi entra la corte. Visti gli articoli di costituzione del codice di procedura penale, la corte condanna gli imputati alla pena di anni 15 di recursione. La corte si ritira. La corte si ritira.